Bene, facciamo un esercizio, l'esercizio numero 5, in cui realizzeremo il gioco del tris. Creiamo appunto un esercizio 5. Ok, mi preparo a usare Bootstrap per generare una tabella del tris leggermente carina, diciamo. Quindi copio da questo esercizio qui l'intestazione per usare Bootstrap. Preparo comunque anche il tag script per inserire il codice javascript che ci servirà dopo. E quindi qui preparo il container fluido che conterrà la nostra tabella. Mi preparo anche, mettiamolo qua sopra, il tag style in cui inseriremo delle proprietà stilistiche che serviranno per rendere abbastanza bella la nostra tabella. Iniziamo a creare, potremmo fare, mettiamo container fluid text center. Creiamo un titolo, tris, e creiamo una tabella. Table class, table, 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 saremo una tabella che avrà, vediamo, un tr, poi un elemento td. All'interno prepariamo già degli elementi span che faranno sì che conterranno qua dentro i vari elementi. Ok, tighi 1, 2, 3 e poi 3 righe, 3 colonne come nella tabella del Tris. Ok, questa è la nostra tabella. Vediamo di sistemare alcune cose con lo stile. Quindi mettiamo un'altra classe Tris in modo da poter dare degli attributi noi e quindi possiamo aggiungere lo stile .tris .tris dove potremmo mettere margin margin, due punti, auto per centrare la tabella e width, ad esempio, 300 pixel per fare la tabella grande 300 pixel. Ok. Vediamo di... Un'altra cosa che vogliamo fare, ad esempio, è aumentare il board delle tabelle e quindi metteremo .table td e ad esempio potremmo mettere border 2.5 pixel questo qui 5 pixel questo qui l'ho già guardato e a dire la verità sembra che questo vada in conflitto con le proprietà di bootstrap a meno che non si mette questa proprietà qui important important che fondamentalmente è fondamentalmente una proprietà per dire qualunque fossero le impostazioni default forza questo comportamento a 5 forza questo comportamento e anche in questo caso mettere un un width anche in questo caso a 100 pixel ok mettiamo allora 5 pixel forse anche solid black forse sovrascriviamo altrimenti altre proprietà che erano impostate ok e vogliamo renderlo più quadrato e quindi associamo invece a punto table proviamo a metterlo sempre qui 8 100 pixel ok abbiamo fatto la nostra tabella la nostra tabella per il tris e a questo punto potremmo andare a selezionare dei glificon in modo da mettere qua la croce e il pallino quindi cerchiamo una croce vediamo ok potremmo usare il glificon remove per la croce quindi facciamo un esempio mettiamo intanto uno span in questo punto con un glificon remove potremmo usare il elemento potremmo usare il campo ossim версci dire attendo di non con un gl Sense Al a puntare ja va che Ok, vediamo il risultato, vedete che viene molto piccolo, dobbiamo incrementare il font del glyficon, quindi potremmo mettere .glyficon font-size 80px. Ok, proviamo a mettere invece un cerchio, questo in verità l'avevo già cercato, non avevo trovato un cerchio, stranamente non avevo trovato un cerchio pure semplice, la cosa più vicina che avevo trovato era questo glyficon record per quanto riguarda il cerchio. E quindi ad esempio in un'altra pedina potremmo mettere ad esempio qui, class glyficon record. Ok, la nostra scacchiera è pronta, grazie a Bootstrap e anche, diciamo, si può aggiustare diversi contesti, ad esempio su un Nexus verrebbe così, su un Nexus 6, l'iPhone e così via. Adesso imposteremo le proprietà JavaScript per lavorare su questa scacchiera. Ok.